Il pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli sarà attivo 24 ore su 24. Ad annunciarlo il sindaco di Agropoli Adamo Coppola nell'ultimo consiglio comunale di oggi, 28 febbraio 2019. In seguito ai numerosi incontri con i responsabili dell'AS Salerno, cui ho sempre richiesto con forza in applicazione del piano sanitario licenziato dalla regione Campania l'attivazione immediata di un pronto soccorso medico H24 presso il presidio di Agropoli, nel dettaglio abbiamo concordato la messa in sicurezza del PS e degli attuali 20 posti letti di medicina assicurando i seguenti servizi. 1. Servizio di radiologia H24 rispetto all'attuale H12, assegnati già tre radiologi, di cui uno si è dimesso il 1 febbraio 2019 e pertanto si sta procedendo al reclutamento per sostituzione dello stesso attraverso la collaboratoria della specialistica ambulatoriale. in attesa dell'esplodamento del concorso. 2. Servizio di laboratorio analisi H24 rispetto all'attuale H12, assegnando a breve altri due biologi. 3. Guardia anestesia H24, dal 4-3-2019 è stata già assegnata alla Pio di Agropoli un altro anestesista e ho allegato la comunicazione dell'ASL che ne certifica l'avvenuta richiesta. 4. Guardia cardiologica in H24 attraverso il reclutamento rapido di specialisti ambulatoriali in attesa dell'esplodamento del concorso. 5. Inoltre ho verificato che sono stati ultimati i lavori di adeguamento delle sale operatorie e sono state avviate tutte le gare per le apparecchiature necessarie al servizio di sterilizzazione e allestimento di due sale operatorie più una terapia intensiva post-operatoria necessaria sia alla messa in sicurezza dei pazienti operati sia a quelli che afferiscono al pronto soccorso. Quindi con questa comunicazione do comunicazione al Consiglio sostanzialmente che l'impegno di istituire un pronto soccorso medico H24, così come il piano prevede, sarà realizzato in tempi brevissimi e quindi il primo obiettivo che noi ci ponevamo, proprio quello dell'attivazione di questo pronto soccorso medico H24, con l'arrivo dei medici che sta avvenendo, determinerà in breve lasso di tempo, ora non sono stati in grado di darci dei tempi precisi, ma già per esempio il 4 marzo è stata assegnata al Piotr Agroboli per esempio un anestesista, per questo non è legato a Coppia, quindi la cosa si sta svolgendo in maniera rapida e nei prossimi giorni, nelle prossime settimane avremo l'attivazione definitiva del pronto soccorso medico H24. Inoltre ho verificato che effettivamente le gare delle sale operatorie sono terminate, i lavori per le sale operatorie, e le gare per la lessione delle sale stesse sono sostanzialmente avviate, quindi anche questa con tempi rapidi si potrà poi attivare il servizio come era stato detto di sale operatorie per interventi in week surgery. Quindi volevo dare notizie al Consiglio, buone notizie al Consiglio del fatto che effettivamente gli incontri e le pressioni di questi giorni stanno portando a risultati ottimali per quel che riguarda la nostra situazione e inoltre naturalmente questo riguarda, così come avevamo detto, che era il mio compito comunicarvi volta per volta che avevo novità di comunicare al Consiglio quanto stava avvenendo, quindi voglio rassicurarvi che comunque non è che le cose sono terminate, io continuerò costantemente a incontrarmi con i responsabili dell'ASL per fare in modo che questo che diciamo c'è stato e oggi lo comunico al Consiglio Comunale con Gordato verrà fatto nel breve, ma che il percorso poi continuerà anche con gli altri servizi che ci hanno sostanzialmente, che il piano sostanzialmente prevede.